Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come velocizzare i download su Google Chrome ovviamente in alto a destra ho fatto un altro trucchetto per aumentare così il download di Google quindi in questo caso se ti interessa c'è quella guida in alto a destra e in questo nuovo tutorial vi spiego un altro metodo e quindi in questo metodo dobbiamo tutto settare nelle impostazioni del browser quindi andiamo su Google Chrome, sui tre puntini vai su impostazioni, ti porterà su questa pagina tu vai sul sistema, comincia a togliere, continua a eseguire applicazioni in background togliamo questa, andiamo pure su privacy sicurezza, sulla sicurezza e selezionare così usa il DNS sicuro, mettete su questa spununità togli, metti questa e una volta fatto andiamo a scrivere qua sopra flags parallel downloading da disabilitato oppure default mettete abilitato e una volta abilitato questa impostazione tu ti dirà di riavviare così il browser, tu lo chiudi e lo riapri ovviamente prima ho detto che si poteva usare un altro trucchetto quindi in questo caso quello che devi fare è scaricarti free download manager perché quando vai a scaricare una cosa su Google tu clicchi sopra, ti porterà su un'altra pagina tu copi quel link gigantesco, ho fatto vedere tutto in quel video e lo metto su free download manager quindi se tu fai 400 kilobyte al secondo e hai il fibra e ne dovresti fare molti di più perché se tu scarichi un gioco su un launcher come Steam, Epic Games e ne fai 15-20 megabyte al secondo e su Google Chrome ne fai solo 400 kilobyte quindi qua c'è veramente un errore un ostacolo che blocca la velocità dei download quindi se guardi quella guida c'è un altro trucchetto quindi grazie a tutti per questa visione se vi è stato utilissimo iscrivetevi, lasciate like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao